Bella leggenda! No, non mi sono mai chiesto se è vero che la pasta può cuocere tranquillamente anche a fuoco spento Quindi fornelli completamente spenti, grande risparmio di energia Ma visto che oggi non c'è niente da fare, verifichiamo! Spaghetti alla carbonara! Riempiamo la pentola! È molto importante per attenersi alla ricetta, tagliare pezzettini fini fini o cubettini Leggera grattatina Ok A zero il fuoco, sposto addirittura la pentola in un'altra posizione Buttiamo la pasta Cinque minuti pronti e si parte con l'esperimento Quello che dicono gli scienziati è che non è il bollore dell'acqua che fa cuocere la pasta Ma la temperatura, quindi non serve che bolla Siamo già pronti, siamo già pronti! Cottura perfetta! Pensa quanta energia abbiamo sprecato! BARRRRRRR Oli!